Buon pomeriggio a tutti, come forse saprete ieri è stata emanata una nuova ordinanza da parte del Presidente della Regione, l'ordinanza che comporta qualche novità rispetto all'impianto di restrizione che abbiamo conosciuto fino a ieri. Intanto due inviti, il primo, qui arrivano una mole gigantesca di richieste relativamente ad attività, spostamenti, la possibilità di recarsi per il suo proprio negozio per fare alcune manutenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate, per avere la risposta alle vostre domande specifiche è opportuno consultare il sito del Ministero degli Interni che contiene una ricchissima letteratura da questo punto di vista. Troverete tantissime domande frequenti con relative risposte anche molto dettagliate. Così come vale sempre il suggerimento di consultare il sito del Comune che ha numerosissime informazioni per gestire al meglio la propria quotidianità durante l'emergenza virus. Oggi è emanato un'ordinanza in cui confermo una serie di provvedimenti presi le settimane scorse, e cioè non faremo il mercato fino al 3 di maggio, poi vedremo come comportarci. Attendiamo, come dire, dei dati più certi relativamente alla stabilizzazione dei contagi. Sono ancora chiusi i parchi e le aree verdi, saranno ancora chiusi i cimiteri. Sono forme di prevenzione che vogliamo mantenere in attesa, ripeto, di tempi migliori. Prorogheremo oggi in giunta anche il non pagamento dei parcheggi, almeno fino a questo fine settimana, poi rivedremo eventualmente la misura, dipendentemente da come andranno le cose. Per quanto riguarda invece gli orti sociali, oggi li riapriremo. Quindi coloro i quali hanno assegnatato i piccoli appezzamenti di terreno comunali, potranno tornare a coltivare i loro ortaggi e le loro verdure. Così come coloro i quali hanno degli orti anche distanti da casa, ma che servono per l'approvvigionamento quotidiano, settimanale, di frutta e verdure, potranno tornare a coltivarli tranquillamente. Potete recarvi nelle attività che sono aperte in città. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha un allegato in cui specifica tutte le attività che in città possono rimanere aperte. Quindi con l'atto di creazione potete recarvi. Può entrare un solo componente familiare all'interno del negozio, salvo ovviamente che dobbiate accompagnare una persona disabile o una persona anziana non noto sufficiente, o che magari abbiate un solo figlio e non sapete a chi lasciarlo, loro potete farvi accompagnare. Ma da oggi in ogni vostro spostamento dell'abitazione potete avere o la mascherina o qualcosa di simile, quindi un foulard piuttosto che una sciarpa per proteggervi naso e bocca. L'esercente, che può riguardare tanto il supermercato quanto il piccolo negozio dal dettaglio, deve assicurare al cliente che entra o i guanti o il gel disinfettante. Mi rendo conto, sono già arrivate alcune lamentele dell'esercente che deve attrezzarsi nel fornire il gel o i guanti, però purtroppo questo è ciò che dice l'ordinanza. Eventualmente vi consiglio di rifornirvi un barattolo come questa, che consente di poter dare risposta a un numero importante di clienti. E comunque il cliente deve sempre avere la mascherina quando entra, quindi mascherina o qualcosa di simile. La parte più importante che ha comportato una marea di domande, di messaggi, è quella relativa alle passeggiate. C'è un'apertura significativa. Le passeggiate si possono fare o comunque l'attività motoria nella prossimità della propria abitazione. Abbiamo consultato il comando della Polizia Municipale. Noi interpreteremo la prossimità circa 500 metri da casa. Ma qui vi invito davvero a utilizzare una stella polare fondamentale che vale in tutte le circostanze che è il buonsenso, che è la ragionevolezza. Dovete rispondervi da solo una domanda, se vi dovesse fermare la Polizia, dove abitate? Qui, abito là. Cioè sono vicino a casa mia, posso raggiungere abbastanza agevolmente. Quindi di non approfittare di questa apertura. Posso portare i bambini a fare una passeggiata? Sì, potete portarli. Sono vostri figli, quindi tratteli magari per mano se sono piccoli. Se sono più grandi possono andarci anche da soli, ma durante le passeggiate o l'attività motoria mi raccomando di rispettare le distanze quando incrociate qualcun altro. Quindi ripeto, sempre ragionevolezza. Questo non è un invito al liberi tutti, facciamo quello che vogliamo. È un'apertura per consentire ai bambini di prendere la boccata d'aria, a qualcuno di fare una passeggiata, per alleggerire la pressione, lo stress che abbiamo subito, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista fisico in queste settimane. In ogni caso, l'attività motoria, che sia la passeggiata che sia l'attività fisica, va fatta comunque con mascherina o con un foulard o con una sciarpa, cioè qualcosa che protegga bocca e naso. La nostra interpretazione verrà inviata anche alle altre forze dell'ordine per avere, come dire, un'interpretazione uniforme, che quindi nessuno possa incorrere in qualche sanzione se viene fermato. Ribadisco però, non siamo usciti dall'emergenza. Ci approssimiamo ad una fase 2 che dovrebbe essere più leggera, dovrebbe garantirci un po' più di vivibilità, dovrebbe restituirci un po' alla volta la nostra quotidianità, ma significa essere ancora più attenti e più prudenti, perché questa prudenza e questa attenzione consentirà di far calare il numero dei malati, il numero dei contagi, aumentare il numero dei guariti e quindi progressivamente vederà riaperto anche altri spazi, anche altri luoghi che facciano parte della normalità che tutti quanti speriamo di poter rivivere presto. Un abbraccio a tutti! Un abbraccio a tutti! Un abbraccio a tutti!